Arnaldo Franzini sarà l'allenatore del Piacenza Calcio anche nella prossima stagione. E' questo il risponso dell'atteso incontro avvenuto questa mattina negli uffici del presidente onorario Stefano Gatti a Sarmato. Il tecnico di Vernasca ha sottoscritto un contratto per altre due stagioni. Dunque spazzate via le voci di un possibile divorzio susseguente alla mancata promozione in Serie B. Il mister Piacentino viaggia verso la quinta stagione alla guida dei Biancorossi. Abbiamo dato seguito a una continuità che dura ormai da quattro anni, l'abbiamo estesa per altre due stagioni. Diventerà probabilmente uno degli attori più longevi della storia del Piacenza. Abbiamo una grande stima recitata, una grande intesa di intenti per cui mi sembrava giusto e ci sembrava giusto continuare questo matrimonio che funziona. Confermato tra le altre cose, anche lo staff composto dal vice Andrea Lussardi, il preparatore dei portieri Massimo Ferrari e il preparatore atletico Paolo Giordani. Un passaggio fondamentale per dare avvio alla fase di costruzione della squadra che può contare su 12 giocatori sotto contratto e che dunque necessita di un'importante opera di restyling, oltre che dell'innesto di nuovi elementi. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell'esterno offensivo Tommaso Ceccarelli, nell'ultima stagione tra gli elementi più rappresentativi del Monza di Berlusconi. Della Latta potrebbe essere riscattato dal Carpi, ma è più alta la percentuale che rimanga. Marotta potrebbe finire in lista di cessione, anche perché rientrerà dal prestito Scacca Barozzi. Si punta forte sulla conferma dei tre centrali difensivi Bertoncini, Silva e Pergreffi, a fianco dei quali ci sarà certamente Corsinelli. Si cercherà inoltre di trattenere Corradi. Capito l'attacco, oltre a Ceccarelli si andrà forte su giocatori di prospettiva. Più spazio dovrebbe avere Silla. Sono invece da escludere giocatori come Giozzi, già del Monza, Morra, la Provercelli chiede 500.000 euro, e Brunori dell'Arezzo, già promesso in Serie B. La strada privilegiata resta dunque quella di giovani in prestito da società di Serie A. Grazie a tutti.